Musica Bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale Benvenuti in questo vlog ragazzuoli Mi sono voluto mettere comodo sul divano E volevo parlarvi ragazzuoli di alcuni giochi Che sono stati annunciati all'E3 Che indubbiamente, quasi sicuramente E penso anche se cascasse il mondo Mi comprerò Sull'iPhone ragazzuoli mi sono appuntato alcune cose Sui giochi di cui volevo parlare E iniziamo subito col parlare De uno dei giochi che sarà annunciato all'E3 Che secondo me ragazzuoli E' un gioco non innovativo di più E soprattutto è un gioco che io aspetto Da quando avevo la capacità cognitiva Di capire che cos'era un gioco Sto parlando di For Honor Che essenzialmente è un gioco Ambientato nel Medioevo In cui c'è la possibilità Multiplayer C'è la possibilità appunto di scegliere A quanto ho capito Tre tipi di guerrieri Legionari E poi non mi ricordo Vabbè comunque C'è la possibilità di scegliere questi tre tipi di guerrieri E ci sono due squadre Che si affrontano una contro l'altra E ovviamente chi resta per ultimo Vince La cosa bella di questo gioco E' che la partita inizia con le due squadre Poste in due punti diversi della mappa Appena inizia la partita Si vedono queste mandrie Di giocatori e di guerrieri Che si scontrano l'una contro l'altra Ed è quella cosa ragazzi Che ho sempre desiderato Di un gioco che si vede sempre Nei film ma mai nei giochi O meglio in tutti i giochi Con cui ho giocato Io non ho mai visto una cosa del genere L'altro gioco di cui volevo parlare Era Rainbow Six Sig mi sembra Che di cui la beta uscirà il 24 settembre Vi consiglio di scaricarla ragazzoli Perché anche questo è un gioco Che non si vede quasi mai in giro Sono tutti quanti ovviamente sempre dalla casa Ubisoft Questo gioco ragazzoli ha due livelli di difficoltà Il realistico è impossibile Mentre quell'altro ti dà la possibilità Di riuscire a vincere Anche con te non molto facilmente Il multiplayer si divide in questo modo C'è una squadra formata da un gruppo di poliziotti E una squadra formata da un gruppo di terroristi Ovviamente i poliziotti Devono entrare attraverso varie tattiche All'interno di case All'interno di cose dove ci sono i terroristi E ovviamente cercare di impedire ai terroristi Di raggiungere il proprio scopo Quando uscirà il gioco L'Ubisoft ha detto che ci saranno 11 mappe Ciò vuol dire raga che ci saranno 11 possibilità di scleri diversi Concludiamo questo video con l'ultimo gioco Che aspetto come se non ci fosse un domani Raga ogni giorno Penso a quel fottutissimo e dannatissimo 6 novembre 2015 E sto parlando ovviamente Di Call of Duty Black Ops 3 Di cui già nello scorso video vi ho detto qualcosina E sono fottutamente eccitato Agitato come Raga come se davvero stessi aspettando Una mignotta che mi arriva a casa Sono davvero così eccitato Per questo gioco Perché c'è un ritorno Al gioco che mi ha appassionato di più Black Ops 2 raga Cioè Black Ops 3 è il ritorno epico Fantastico di Black Ops 2 In chiave moderna In chiave futuristica Possiamo dire più che moderna Quindi in linea con i nuovi Call of Duty Che si sono sviluppati negli ultimi anni Ma appena ho visto il primo gameplay Di presentazione di Call of Duty Black Ops 3 Ho schizzato da tutte le parti Gli occhi mi sono cascati dalle orbite Però tutto in senso positivo ovviamente Perché ho visto in particolar modo Un'arma Alla K che Non c'è assolutamente differenza Tra Call of Duty Black Ops 2 e Black Ops 3 E la cosa ragazzuoli Ovviamente mi ha riempito il cuore di gioia Detto questo ragazzuoli Il video finisce qui Nei commenti Fatemi sapere Intanto ci sono le zanzare Cosa ne pensate di questi tre giochi Che vi ho portato quest'oggi in questo video Ci vediamo alla prossima Bella